Sono entrato al porto subito dopo il militare, ma prima lavoravo al matatoio da giovane. Lavoravo al matatoio qui quando era ancora l'incorso Masini. Ho deciso di andare a lavorare al porto perché avevo degli amici che ci lavoravano e allora mi sono presentato per vedere se potevo anche io entrare a far parte dei cosiddetti fuori via. Il primo lavoro che sono andato a fare sono andato allo sbarco di una nave che arrivava dalla Sardegna che aveva merce varia e la cosa che mi è rimasta impressa erano i mattoni refrettari. Quelli si dovevano fare le famose cantie dette in dialetto giù e si facevano a mano che ci abbiamo lasciato tutti due paia di guanti perché con i mattoni refrettari lo sai meglio di me che si consumano con molta facilità. E lì in due giorni abbiamo finito la nave, è andata bene così. A bordo ci dicevamo quelli del tiraggio, andavano a bordo. E a terra andavano i facchini, i cosiddetti facchini. Io ero dalla parte del tiraggio che lavoravamo a bordo. E gli anziani ce n'era, ce n'era due anziani che ti insegnavano un pochettino come dovevi lavorare e se volevi imparare a far meno fatica. Capisci? E quella era la cosa più giusta, cercare di lavorare bene e far meno fatica. Però il lavoro era quello. Allora la chiamata prima faceva l'avviamento al lavoro dei soci che erano tutti in sala chiamata. E poi è finita la chiamata diciamo all'avviamento dei soci, se aveva completato non usciva neanche e diceva siamo a posto e noi niente. E se invece c'era bisogno di gente veniva fuori, diceva, chiamava da dove era rimasto dalla chiamata precedente e andava avanti. Noi mi ricordo noi ci chiamavano dalla finestra perché eravamo tutti sulla piazza rebagliati. Quando eravamo lì come fuori via facevi i lavori che scansavano tutti gli altri. Capisci? Ora farina di pesce o nerofumo e gelsonite tutta quella roba lì. Farina, riso, quella roba lì. Era un lavoro pericoloso. Difficile, Eritex lo volevi far diventare difficile. Soprattutto pericoloso. Però doveva anche essere la tua intelligenza. essere anche attento a te perché non puoi, diciamo, guardare gli altri. La prima cosa devi stare attento a te. Capisci? A fare attenzione a secondo i lavori che vai a fare anche. Perché più di una volta mi è capitato a fare dei lavori che se non stavo attento io magari si rimetteva un piede, una mano o qualcosa. Invece è sempre stato fortunato anche colpo d'occhio che non mi sono mai fatto niente. L'unica cosa ho preso una storta e basta. In tutta la carriera da Portuale. Camminando sui sacchi di riso, eh. Con il sacco sulle spalle e basta. C'erano certe navi. Quando sbarcavamo, ad esempio, sbarcavamo le rotaie, quelle che venivano poi rotamate, no? Sbarcavamo le rotaie e eri sulla, sul mezzo di bordo per alzarle. Ci facevano passare un cavo, tringevano per alzarlo per poi far passare le catene sotto, no? E purtroppo io ci ho detto non passatele, non fate passare il braccio sotto. Gridavo sempre, però di sopra con il rumore non ti sentono. Però qualcuno, sai com'è, si lascia andare e passa la mano sotto. Si è strappato il cavo e purtroppo uno ci è rimasto il braccio. Io sono saltato via di lì. Me ne sono andato perché mi sono trovato paura. Quindi non è che... E poi però è andato bene che non è successo niente. Sono un pochettino ammaccato, è stato fortunato. Il problema era poi per alzarle e toglierci il peso, capisci? Era un caos perché non sapevi mai come prenderle, avevi paura di portarci via il braccio e tutte quelle cose lì. Di nuovo un'altra volta sbarcavamo rotoli di lamiera, si è addirittura strappato il cavo sempre del mezzo di bordo che era un rotolo di lamiera che era circa 35 tonnellate. lo portava, lo reggeva il peso, però si è strappato il cavo perché a forza di lavorare magari era già consentito. Lì è andato bene, non è successo niente. Quando capitavamo con tutta la squadra in cui eravamo sei persone, più o meno che eravamo quasi sempre assieme, eravamo più assieme noi che quasi che si può dire dalla famiglia, allora c'era tanta confidenza fra l'uno e l'altro, capisci? e ti trovavi quando secondo che lavori facevamo ci portavamo addirittura, se andavamo mattina alle 6, ci portavamo a fare colazione e così via, o viceversa, se andavi dalle 2 fino alle 10, ti portavi da fare merenda e ci fermavamo quei 10 minuti, 20 minuti, facevamo merenda e così via, chi portava vino, tutte queste cose, capisci? Comunque era tutto, nonostante che, come dico, era un lavoro pesante, faticoso, e molto pericoloso, c'era anche molta armonia fra la squadra, diciamo, in cui lavoravi, erano tutte persone come si deve, io ero forse uno dei più giovani di quelli che c'erano nella squadra, però mi sono, come ti dico, nonostante tutto, mi sono sempre trovato bene e cercavo di fare esperienza con loro, che loro avevano più esperienza di me, di imparare come si doveva lavorare, come potevi lavorare senza farti male e possibilmente, come si dice, far meno fatica, sinceramente, dico la verità, ti autogestivi come volevi e ti potevi gestire nel senso che tu potevi gestirti il lavoro, capisci, gestendoti il lavoro, penso che sia la cosa più bella, io ti posso dire una cosa, una volta siamo capitati a lavorare a terra, eravamo tutta la squadra, eravamo occasionali, eravamo avventizi, uno della squadra si è sposato, allora davano solo, mi sembra, una settimana di permesso, noi sapevamo che in quel vapore lì ci andavano tutta una settimana, prima di finirlo, ci abbiamo detto te ne fai un'altra e noi abbiamo lavorato in cinque invece che in sei e la cosa essenziale è che tu come squadra andavi d'accordo, eravate tutti a una, ti posso dire, che ognuno la pensavamo tutti allo stesso modo, quando si poteva fare un favore a uno, si faceva, senza nessun problema e così via, a chiunque altro. e così via un po' Grazie a tutti.